Il club Dorino Serafini chiaramente è sempre all'avanguardia quando si tratta di parlare di manifestazioni di qualità, in questo caso anche con l'aiuto di Asia e soprattutto della terra dei piloti e dei motori, si creerà una cartolina credo indimenticabile per i turisti ma anche per i pesaresi che si troveranno venerdì sera a passeggiare per piazzare la libertà. Intanto perché questo raduno veramente importante tiene insieme anche questa installazione a terra che verrà realizzata con questa grande immagine e per cui sembrava ricadere dentro il Mar Rosso del Museo in Egitto che quella sera inaugurerà per il Rossini Pro Festival con la prova generale, ma soprattutto perché attorno avremo appunto auto da sogno, auto da sogno d'epoca, dalle Ferrari alle 500, ma tutto in un viaggio nel tempo fatto da grandissimi collezionisti, alcuni che già conoscono la sua età, alcuni che la scopriranno in questa occasione, quindi anche una bellissima occasione di incontro a Pesaro per amanti del bel vivere, del buon gusto, della bellezza italiana che ha fatto grande Pesaro a partire dai motori ma che ha fatto anche tante immagini dell'Italia all'estero attraverso appunto la bellezza dei nostri marchi automobilistici. Lo scopo è quello di far conoscere il mondo delle auto d'epoca. Il nostro club che c'è a Pesaro da ormai 35 anni è federato all'ASI, che è l'associazione nazionale delle auto d'epoca e noi curiamo tutto quello che serve per poter far diventare una vettura d'epoca, le certificazioni, tutte le agevolazioni che si possono avere eccetera e questa esposizione è anche lo scopo di far conoscere a appassionati o anche a gente normale tutto quello che è che ruota intorno a questo mondo. Che tipologie di auto sono? Tutti i tipi di auto, dalle utilitarie alle auto più lussuose o sportive. La più piccola è una 500 Fiat, ci sarà anche una 500 Fiat molto particolare che in pratica è un fuoristrada. Tanto per darvi un'idea particolare guardandola somiglia a una mela. E poi ci saranno alcune Ferrari, fra cui due o tre rarissime, quindi dovremmo poi stare attenti anche perché sono pezzi veramente particolari. Quindi è proprio tutto quello che riguarda la parte dei motori d'epoca.